a prescindere dalle perele che abbiamo visto che esistono e ci sono noi nel momento in cui siamo in questa notizia soltanto dando questa notizia che quindi c'è un tradimento di uno sposato con tre figli che è il capitano della Roma e che è l'emblema di un bravo ragazzo già è una notizia solo per questo che non è però perché non è? beh ho quattro denunce a riguardo per dimostrare che forse non lo è